Oggi il bentornato negli studi Temporadio al primo cittadino di Castelgofredo, di nuovo con noi il sindaco Alfredo Posenato, bentornato. Grazie, buona giornata a tutti. Invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordo una sola delle tante coordinate, il numero per sms e messaggi whatsapp che è il 338 17 19 105. Allora sindaco, bene, parliamo buone nuove per quanto riguarda il fronte palazzetto dello sport. Sì, finalmente uno dei percorsi che erano stati avviati sta giungendo a compimento, questo perché con la nostra assicurazione abbiamo trovato un'intesa transattiva e abbiamo quindi definito un rimborso di 250 mila euro che ci dovrebbe essere erogato, credo a breve, già che appunto l'accordo transattivo è stato sostanzialmente trovato. Ci dovrebbe essere erogato questo importo che sommato ai denari, o meglio alle opere che le aziende che hanno realizzato l'impianto, che poi è stato crollato circa due anni fa, appunto l'intesa con queste aziende è che loro ripristinino una parte di ciò che è crollato e con i denari dell'assicurazione più un'ulteriore aggiunta che noi dovremmo fare anche perché cogliamo l'occasione per fare alcune opere di miglioria, a cominciare anche da adeguamenti sismici che si rendono quanto mai opportuni. Insomma, questo ci dovrebbe porre in condizione di poter iniziare quanto prima le opere di ricostruzione. Tengo a precisare che anche se saranno le stesse aziende che realizzeranno le opere che non hanno dimostrato di essere così efficaci, saranno esercitati una serie di controlli supplementari a cura di tecnici da noi incaricati, questo per dare ulteriore garanzia che le attività di ricostruzione vengano svolte nel miglior modo possibile. Quindi, alla luce di tutto ciò, riteniamo che nell'arco di, speriamo, un paio di mesi si possano iniziare le operazioni di ricostruzione. Non va dimenticato anche che abbiamo un problema legato alla stagione, quindi non si può certamente iniziare quando siamo ancora esposti a rischio neve, però speriamo con l'inizio della primavera di poter iniziare i lavori e entro la fine dell'estate di poterli ultimare, e quindi poter restituire finalmente dopo circa due anni e mezzo, prevediamo, il palazzetto ricostruito e verosimilmente addirittura migliorato rispetto alle connessioni in cui versava quando, ahimè, abbiamo avuto il sinistro il 6 febbraio del 2015. Pertanto ci auguriamo di poter poi dare conferma sullo stato di avanzamento dei lavori che, ripeto, dovrebbero iniziare nell'arco di alcune settimane. Benissimo, ricordiamo quella mattinata appunto che la chiamammo, era venuta pochissima neve, fu sufficiente veramente un minimo proprio di neve. Sì, la nevicata naturalmente è stato ciò che ha innescato il crollo, però evidentemente c'era un vizio, un effetto costruttivo originario. A questo proposito colgo l'occasione anche per ricordare che, sebbene il tetto sia crollato solo parzialmente, noi abbiamo ritenuto, diversamente da quella che era stata l'offerta iniziale delle ditte costruttrici, abbiamo ritenuto comunque di procedere allo smantellamento totale del tetto. Quindi, per ragioni di credo opportuna e doverosa prudenza, abbiamo ritenuto di non fidarci sullo stato e sulla capacità, sulla resistenza della parte residua del tetto, ma procedere allo smantellamento dell'intero tetto, dell'intera copertura e al ripristino di tutta la struttura. Questo appunto perché ci è andata male o bene, a seconda di come la si vuole vedere una volta, non vogliamo certamente esporre nessuno al rischio di un nuovo possibile incidente. Quindi, certo, costerà un po' di più, ma riteniamo che siano soldi spesi in maniera opportuna. Benissimo. Allora, guardi, le leggo subito un messaggio che non c'entra proprio, perché evidentemente è arrivato, perché appunto abbiamo avuto prima un esponente del Comune Casaloldo, allora è possibile collaborare con Casaloldo? Perché era arrivato un messaggio di un ascoltatore che diceva perché non collaboriamo con Castel Goffredo che ha più possibilità, insomma. Oddio, tutti gli enti pubblici purtroppo hanno le difficoltà di bilancio. Noi siamo assolutamente aperti a collaborare su ogni fronte con tutti i comuni limitrofi e non. Ne abbiamo già dato ampia dimostrazione facendo gli accordi che abbiamo fatto con Casalmoro in tempi più recenti, allargando la convenzione, limitatamente la polizia locale, che già è attiva con Casalmoro, anche al Comune di Ceresara. Con Casaloldo abbiamo contatti costanti, ci sono una serie di opzioni sulle quali stiamo cercando di discutere, è evidente che poi per fare dei buoni affari bisogna essere in due, però da parte nostra anche quando facciamo l'operazione di unione di servizi con Casalmoro la facciamo non per obbligo di legge, ma proprio per la volontà di poter allargare il territorio e poter estendere una serie di servizi, una serie di buone pratiche a territori più ampi. Io sono assolutamente persuaso che questa sia una strada che è indispensabile seguire. Certo, in molte circostanze, stante le attuali leggi, sarebbe più fruttuoso e più conveniente pensare addirittura delle fusioni. Sappiamo però quanto questi esperimenti siano difficili da portare a termine, quindi procediamo passo passo. Anche con Casaloldo abbiamo in corso una discussione per quanto riguarda una serie di servizi e vediamo dove siamo in grado di arrivare. Ci auguriamo che la cosa possa effettivamente produrre qualche risultato. Per quanto riguarda lo sport, l'avviso sinaco che è arrivato anche la richiesta di fare mani, arriva anche alla Presidente Napoli Sportiva ogni tanto, una pista da velocità per il patinaggio con tanto di curve paraboliche, sono degli ovali un po' come l'India-Napoli. Diciamo che sarebbe bello fare tutto, sarebbe bello avere qualunque cosa sul territorio, poi naturalmente dobbiamo capire che cosa le risorse che abbiamo disponibili ci permettono di fare. In questo momento, questo ragionamento l'ho fatto fin dal giorno del mio insediamento, e quindi tre anni e mezzo fa, questi non sono purtroppo più tempi per pensare ad opere importanti. Oggi dobbiamo pensare a conservare, mantenere quello che abbiamo, cercare di mettere in sicurezza tante situazioni che purtroppo, per una serie di ragioni, vuoi perché sono cambiate le norme, ma soprattutto perché tanti edifici o tante opere sono anche vetusti, non sono più in grado di garantire la necessaria sicurezza e quindi dobbiamo piuttosto concentrarci su questo. Il crollo del nostro palazzetto ne è purtroppo una evidente dimostrazione. Dobbiamo quindi pensare di mantenere quel che c'è. Allora, fermiamoci un attimino con Alfredo Posenato, sindaco di Casalgo Fredo, ci troviamo tra un paio di minuti e arriviamo. Alla farmacia Giovannolia, a Castiglione, più spazio, più assortimento, più consiglio, e strumenti innovativi di prevenzione, cura e benessere. Da Giovannolia. Diretto con gli ascoltatori, saluto un ascoltatore, Enrico, che scrive «Sono un papà e non ne possiamo più andare avanti e indietro, è veramente difficile anche per i bambini». Presumo che riguardi proprio l'assenza del palazzetto dello sport, quindi appunto… Non mi è difficile immaginare che sia riferito a questo evento, ne siamo perfettamente consapevoli. La nostra volontà è quella di poter restituire il palazzetto più in fretta possibile, ma lo vogliamo fare nel modo giusto, quindi dando poi garanzia che sia veramente un luogo sicuro. La negoziazione con le controparti è stata estenuante, siamo arrivati finalmente a questa conclusione. Speriamo veramente in tempi brevi di poter iniziare i lavori. Poi, saluto Michele che dice «Ci sono ancora delle persone molto simpatiche che abbandonano l'immondizia, ci autotassiamo, compriamo le telecamere». Ma diciamo che noi vi abbiamo già tassati abbastanza, quindi la volontà non è quella di far tirare fuori altri soldi. Ah vede, sportini abbandonati, un altro… No, no, il problema dei rifiuti è un problema serio che peraltro non riguarda solo i rifiuti abbandonati, ma con l'inizio dell'anno, come si sa, abbiamo avuto il rinnovo. Noi non abbiamo avuto un cambio di gestore perché era a Mantua Ambiente l'anno scorso e continua a essere a Mantua Ambiente, però c'è il cambio del socio privato. Col cambio del socio privato, che è il soggetto che poi si occupa della gestione della raccolta, c'è stato anche un cambio della cooperativa, qui è stato subappaltato il lavoro. Purtroppo la cooperativa ha vinto l'appalto il 30 di dicembre, o meglio è stato aggiudicato l'appalto il 30 di dicembre, non c'è stato il tempo per poter fare una acquisizione di conoscenze del territorio adeguata, anche se alcune delle persone che facevano parte della precedente attività fanno ancora parte, quindi sono passate alla nuova cooperativa. Questo sta creando, ha creato e sta ancora creando diversi disservizi, siamo naturalmente in discussione con Mantua Ambiente, che è comunque il nostro interlocutore, quindi il soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nel tentativo di correggere queste difformità. Io approfitto dell'occasione per scusarmi con tutti i cittadini ai quali abbiamo involontariamente causato un disservizio. Posso garantire che siamo su pezzo, quindi che la cosa è assolutamente nota e stiamo lavorando di concerto con Mantua Ambiente perché venga corretta e normalizzata quanto prima. Peraltro c'è stato anche un problema con la distribuzione dei calendari, che non sono stati distribuiti in maniera puntuale a qualche centinaio di utenze, anche su questo ci scusiamo e so che tante persone stanno venendo in comune a ritirare i calendari, mi rincresce aver creato questo fastidio, sono fiducioso però che la cosa sia eccezionale e che non sia destinata a ripetersi. Benissimo, grazie. Allora, torniamo adesso tra poco, diamo voce ad altri messaggi di ascoltatori, però questo per quanto riguarda gli servizi, parliamo della cooperativa della calza un attimo, invece un'altra iniziativa di Castello, credo. Sì, come mi pare di aver già dato notizia qualche tempo fa in occasione della mia ultima intervista in radio, la cooperativa della calza è fisicamente partita dall'inizio di dicembre, stanno operando a Solferino nella sede dell'ex calzificio Futura, la cooperativa si chiama La Nuova Futura, è composta attualmente da sette persone e appunto è un tentativo, un esperimento che siamo riusciti di concerto con molti soggetti che hanno partecipato attivamente alla realizzazione del progetto, siamo riusciti a farlo partire, oggi sono operativi, quindi tutti quei produttori di calze che avessero bisogno di attività di cucitura, di confezione, di stiro, perché non ne sono attrezzati internamente o per qualunque ragione avessero necessità o desiderio di farle lavorare, sono pregati di mettersi in contatto al fine appunto di poter discutere. Quello che posso garantire è che è un laboratorio che ha tutti i crismi dell'assoluta legalità, quindi pagano le tasse, versano i contributi, fanno le cose per bene in un ambiente assolutamente corretto, protetto, sono persone che hanno già lavorato nel contesto dei calzeifici, quindi hanno già manualità, hanno già esperienza e hanno una gran voglia di fare perché alcune di loro sono ferme da un anno, due anni, tre anni e quindi hanno sperimentato sulla propria pelle le difficoltà che nascono dalla mancanza di lavoro, dove non va mai dimenticato mancanza di lavoro non è solo mancanza di reddito, ma arriva e sfocia nella mancanza di dignità. Tante persone, abbiamo sentito tante storie purtroppo in questi anni, persone che arrivano a fare gesti estremi proprio perché non sono più in condizione di badare a se stesse, non hanno più una prospettiva, non vedono più un futuro. Ecco, questo esperimento nasce con la volontà di poter dare un'opportunità a quelle persone, ad alcune persone che purtroppo hanno imboccato questa strada estremamente amara. Speriamo davvero che questo esperimento possa funzionare e auspicabilmente replicarsi tante e tante volte. Benissimo, quindi è che sta andando... Sta funzionando, sì, non è attivo da moltissimo tempo perché, ripeto, è iniziato dall'inizio di dicembre, però, insomma, sta funzionando, ha già qualche cliente, altri speriamo possano arrivare, ci sono contatti con diversi altri produttori di calze che stanno, speriamo, concretizzandosi, quindi l'augurio è che questo esperimento possa davvero ben funzionare. Allora, le leggo alcuni messaggi e poi parliamo del carnevale anche. Bisogna chiamare Mantova per il calendario, chiede Simone, presumo che riguardi il calendario della raccolta... No, nuovamente, qua ripasso al tema che abbiamo toccato poc'anzi e ribadisco le mie personali scuse per i disservizi che abbiamo involontariamente provocato. No, il calendario, per chi non lo dovesse aver ricevuto, è disponibile in comune, quindi negli uffici del comune, in orari di apertura, è sufficiente recarsi in comune e all'ufficio informazioni siamo in grado di distribuirlo, viene solo richiesto il nominativo, l'indirizzo, ma non c'è da pagare nulla, non c'è assolutamente nessuna esigenza di certificazione, quindi chi ne avesse necessità non fa altro che recarsi. Mentre ricordo che per chi avesse bisogno, i sacchi gialli della plastica, quelli sono in distribuzione tutti i giovedì pomeriggio dalle 3 alle 17.30, quindi dalle 15 alle 17.30. Benissimo. Mi permetto, se lei me lo consente, di fare un passaggio su un tema un po' inedito. Ora, moltissime persone giustamente lamentano che le tassazioni nazionali, regionali, locali sono alte rispetto a quelle che sono i redditi. Non dirado questo nasce anche dal fatto che i buchi di bilancio che gli enti pubblici hanno devono essere, ahimè, coperti sì con dei tagli di spesa, ma anche talvolta con degli incrementi di entrata. Purtroppo molto spesso le risorse disponibili vengono messe a disposizione di soggetti che in maniera infedele fanno dichiarazioni non coerenti a quella che è la realtà. Ricordo che molte persone hanno la facoltà di richiedere degli sgravi su una serie di servizi semplicemente presentando l'ISE, ovvero quella dichiarazione che identifica lo stato reddituale patrimoniale e che dovrebbe quindi fotografare un po' le condizioni delle proprie finanze, delle finanze familiari. Ecco, ci sono persone che attraverso questa autodichiarazione non di rado fanno dichiarazioni e rappresentano quadri non veritieri. Volevo solo chiarire che stiamo iniziando una campagna molto puntuale dove tutte le volte che ci verrà fatto questo tipo di richiesta e quindi di poter accedere a condizioni privilegiate, a condizioni aiutate da parte del Comune per non pagare o per pagare delle tarifazioni più basse su una serie di servizi per esempio la mensa scolastica piuttosto che l'iscrizione all'asilo nido noi non solo eserciteremo dei primi controlli in maniera diretta ma faremo le immediate segnalazioni di queste pratiche alla Guardia di Finanza affinché tutte le pratiche possano essere puntualmente verificate e se c'è qualche soggetto che in maniera infedele, ripeto, perché questa mi sembra la parola giusta cerca di trarre vantaggio sottraendo a questo punto risorse a chi ne avrebbe veramente bisogno ecco, noi siamo determinati a far sì che questo non abbia a ripetersi. L'orgurio è che non emerga neppure un caso quindi che chi eventualmente ha fatto questo tipo di richiesta ne avesse veramente necessità questo perché credo che sia davvero vergognoso cercare di approfittare ripeto, sottraendo risorse a chi ne ha realmente necessità da parte di chi invece questa necessità non ce l'ha. Certamente, credo che tutti quanti potrebbero fare degli esempi in questo momento appunto di aver assistito a gente che non meritava Allora, Sindaco, e viceversa, chi è in regola sia tranquillo Assolutamente, è un vantaggio per lui Chi è in regola non deve temere nella maniera più assoluta Chi non è in regola forse è l'occasione buona per cercare di correggere delle derive inopportune Dunque, calendario è arrivato, ma come tutti gli anni, dice un ascoltatore, in ritardo ho letto che a Guidizzolo sono usciti da Mantua a Mbeta Perché? Questo lo aggiungo io perché non c'è scritto il messaggio Perché noi no se si risparmi appunto di domanda? Ma questo è un tema che abbiamo già affrontato in passato E qua forse mi assumo le responsabilità Nel senso che la possiamo definire mancanza di coraggio Diciamo che noi abbiamo negoziato con Mantua Ambiente Un miglioramento tarifario che dovrebbe avere, seppur modeste, ma delle ricadute benefiche Già dal 2017 Noi non abbiamo adottato il meccanismo che ha adottato Guidizzolo Che peraltro è sostanzialmente il modello rodigo Per una serie di ragioni A cominciare dal fatto che è un sistema di raccolta Che si basa essenzialmente sulla remunerazione attraverso i voucher Che peraltro sappiamo è un tema di straordinaria attualità Perché al di là del referendum Insomma ci sono anche delle modificazioni normative al riguardo Se il sistema di voucher dovesse essere messo effettivamente al bando O comunque dovesse subire ulteriori rimaneggiamenti Potrebbe costituire un problema di non poco conto Nella gestione di questo meccanismo di raccolta Poi non va dimenticato che quando si parla di raccolta e smaltimento dei rifiuti O meglio, invio dei rifiuti al recupero, al trattamento e allo smaltimento Stiamo parlando di qualche cosa che se gestito in maniera non precisa, non puntuale Può addirittura avere ricadute di carattere penale Confesso che se devo finire in galera Era vorrei andare sempre per qualcosa di un po' più significativo Quindi è un argomento straordinariamente delicato Che è stato oggetto di profonde riflessioni Dove alla fine è stato scelto di rimanere su una strada forse più banale Probabilmente meno innovativa Ma che tutto sommato elimina una serie di problematicità Che io in tutta franchezza non credo di essere Che sarei stato in grado di gestire Certamente, poi si fa un gran parlare di precarietà E poi si approfitta del lavoro precario Ma comunque, grazie di quello che ha appunto della precisazione sindaco Parliamo del carnevale, visto che siamo in chiusura? Assolutamente, come tutti gli anni ci apprestiamo ad arrivare nel periodo del carnevale Anche quest'anno ci sarà il carnevale Castelgofredo Con le solite celebrazioni Con anche la mescita dei gnocchi Come è nostra tradizione E quindi si terrà domenica 26 febbraio Naturalmente tutti sono invitati E speriamo che il tempo sia clemente Visto che il tempo in queste settimane purtroppo Nel centro Italia sta facendo veramente scempio E approfitto anche di questa trasmissione Per manifestare la mia personale vicinanza Alle popolazioni dell'Abruzzo E delle aree colpite da questa ondata di maltempo A cui si sommano i disastri provocati dai sismi Quindi veramente il nostro cuore è con loro E vicino a loro E ci auguriamo davvero che i loro disagi Le loro tragedie possano presto C'è Francesco che propone Di organizzare una raccolta di vestiti in buono stato Sono già state fatte molte iniziative In questo momento attraverso la protezione civile E attraverso il coordinamento anche della provincia Si sta cercando di fare qualche cosa Se si riesce a dare concretezza a queste iniziative Cercando di coordinarle in maniera opportuna Perché poi iniziative così un po' centrifuga Rischiano di finire in poco Cercheremo di dare notizia Per tentare appunto di concretizzare Uno strumento, un meccanismo di raccolta Che possa rivelarsi davvero efficace E aiutare queste povere persone Allora, ripetiamo la data del... 26 febbraio Domenico 26 febbraio Siamo in chiusura Ringraziamo tantissimo Alfredo Posenato Sindaco di Castel Goffredo Le vorrei leggere in chiusura Un ultimissimo messaggio che le manda Maria Dice So che lei non vuole Ma la prego ci pensi Si candidi ancora Con questo... Ringrazio Ringrazio della sollecitazione Ho ancora 14 mesi Diciamo di servizio Che cercherò di onorare Al meglio delle mie modeste possibilità Dopodiché è giusto Che ci sia spazio per altre Grazie Grazie sindaco Grazie Grazie